Tornando poi al buon Luca Valori Guardate che figata Allora lui scrive Entra nel mondo dell'immobiliare con soli 49 euro Mamma mia con i chiavi Cioè entri nel mondo dell'immobiliare Capito? E compri una maniglia Nel senso che compri una maniglia dalla porta Con 49 euro E entri Pa! E sei entrato nel mondo dell'immobiliare Allora nessuna esperienza? Zero budget Nessun problema Eh certo Monopoli immobiliare starter kit Ti permette di avviare la tua attività In questo settore Senza alcuna esperienza Pergressa E senza spendere Migliaia di euro alla cieca Ne spendi 49 Io faccio la domanda pure a Giorgio Giorgio ma scusa Il settore immobiliare Non è uno di quelli In cui deve avere in realtà Più possibilità di investimento O sto di una cazzata? Ah sicuramente Se vuoi entrer seriamente Sì però vedo che anche in chat Hanno fatto due commenti interessanti Uno che dice Vai c'è degli ETF rate Cioè di Real Estate Investment Trust Che tu puoi anche investirci Magari 5 euro In un prodotto finanziario Che investe in immobiliare Tu quindi puoi partecipare così Oppure esistono anche Un soldino quindi Un gettone Crowd Come si chiamano? Il crowdfunding immobiliare Il crowdfunding Non è crowdfunding Si chiama Comunque una roba del genere Sì quello in cui tu partecipi In iniziative È come quello che ha fatto anche Gilardoni Che adesso si sta ribattando Mi sono dato un sacco di Damentere Di gente che aspetta due anni Però era forte a Parma Devo dire Che Si presenta benissimo Questo starter pack Guarda come si muove Ma quanto cazzo è bello Guarda che dice Un video scompiliare Che genera guadagni In 30 giorni Sempre questa impazienza C'è 30 giorni Capito? Su 30 giorni Anche se parti da zero È bellissimo dai Monopoli di Luca Valori Accedi istantaneamente Non troverai queste informazioni Altrove Puoi avere qualsiasi età Qualsiasi settore Perché veramente Chiunque è un cliente potenziale Per questa cosa Incredibile Chiunque è il candidato Aspetta ci sono le prove Clicca un po' Anche se non hai conoscenze tecnologiche Quindi pure tipo Minonna Incredibile Allora ragazzi Abbiamo un'altra robetta Interessante in chiusura A proposito sempre Delle Dei done for you I mitici done for you Del grande Luca Valori Un ragazzo Spero in questo caso Che Luca Valori Si mobiliterà per un rimborso Perché insomma Cioè loro lo dicono spesso L'ha fatto devo dire Eh no appunto dico L'ha fatto Ma anche Big ad esempio È di questa scuola Cioè rimborsi Caloni Cioè loro giustamente dicono Uno non è soddisfatto E devo dire che qua ci saranno A dir poco gli estremi Per il rimborso Ci sarebbero anche gli estremi Per altro Allora intanto vi faccio vedere Un contrattino Tipo Che utilizza Luca Valori Per Per alcune Diciamo Compravendite Allora questo è un contratto Di servizi Sì Allora questo è un contratto Di servizi Con le promesse Tipo Berlusconi Le promesse Allora Il cliente intende acquistare Il servizio di online marketing Della società Il servizio Done for you Con creazione store Chiave in mano Team Valori International A disposizione totale Del cliente Dove si occuperà Di ogni singola fase Ricerca prodotto Strutturazione store Cura del back end Front end Premesse Sviluppo del reparto SEO E blog all'interno Dello store Cura grafica Delle relative creatività Creazione Sviluppo Creazione Sviluppo Gestione Scalata delle campagne marketing Attraverso facebook E google hub Però poi vedremo che Queste però Hanno bisogno di un plus Un po' come ci diceva Enrico C'è un'altra piccola ricarica Gruppo whatsapp Dedicato con Luca In persona all'interno Anche qui vedremo E i relativi tecnici Esatto L'eminenza grigia Per ragionamenti giornali Possibilità di schedulare Anche zoom dedicate Sotto richiesta del cliente Rientro alla seguente Collaborazione Di un importo Pari al compenso Corrisposto Al netto Di qualsiasi spesa 4500 euro Il 100% Dei guadagni Il Danforio E' quello che ha fatto Enrico No? Perché nel video C'era scritto Danforio No, no Il Danforio E' quello che ha fatto Il ragazzo Che ha intervistato Germano Ok Che avevamo visto Nella prima live Sì Quello che è stato rimborsato L'academy E poi Enrico Anche ha nominato Il Danforio Sì, pure Enrico L'ha citato Non mi ricordo Però Ok In generale Adesso Almeno dalle testimonianze Che sono arrivate Luca Valori Va molto forte Su Ah, forse l'aveva detto Sì, 4005 Forse l'aveva detto Pure Enrico Comunque va molto forte Su questo Danforio E Il ragazzo Quello che poi è stato Diciamo Minacciato da Gioele Il ragazzo Che aveva intervistato Germano Aveva detto Di non aver mai parlato Però con Luca Valori Cosa che dirà anche questo Piccolo spoiler Comunque Il 100% è ok L'identità del cliente Verrà mantenuta riservata Va bene Si stipula E conviene Quanto segue La società Si impegna A prestare i propri servizi In favore del cliente A far data Dalla sottoscrizione Del presente contratto E dalla ricezione Del pagamento A Dubai Il cliente Riconosce alla società A titolo di corrispettivo Per il servizio Acquistato Un compenso Pari a 4.500 euro Mediante Bonifico bancario La prima ondata Di pagamento Alle coordinate bancarie Che saranno comunicate La società Si impegna A svolgere La propria prestazione Attraverso Le best practitioners Attualmente conosciute Nell'area Dei servizi erogati Buona fede E diligenza Ma ti pare che devi scrivere Che c'è buona fede In un contratto Ma che cazzo Posso chiedere Posso chiedere E che l'italiano Fa cagare Il dottor Luca Valori Ma qualcuno lo sa Perché si scrive Tipo Dubai Li Perché scrive Li Prima della data Me lo sono sempre chiesto Quando stavo Tipo alle medie Hai fatto il classico Ma perché Li Per Bruce Lee Qualcuno lo sa Per Bruce Lee O Jet Li Vabbè non si sa È una forma arcaica In onore di No credo sia esatto Una forma che deriva Probabilmente Da latino Voglio dire una cagata a volo Capito così Da semipolto Può essere Dunque sì Ho fatto il classico Ma sono il quarto ginnasio Quindi non l'ho fatto Però è vero Perché stai a dire tu George Se rimetti il contratto Che ho visto una cosa interessante Ce l'ho Ce l'ho C'erano due punti Aspetta Il punto G Che mi ha fatto molto godere Se vai giù Ecco Cioè G e l'F Non sono Unibili In un unico punto Perché dice Il punto di 60 giorni Sarà a chiedere Dal terzo mese Si va definito E sotto dice Che succede dal terzo mese Non bastava Allora Leggi anche qua Ditemi che vuol Dal terzo mese Verrà fatto una ripartizione Previo accordo comune Su una divisione del netto Da ambedue le parti E poi sotto Dice che ci sarà un corrisposto All'azienda del 30% Che è È già stabilito Non è stabilito Esatto Capito Cioè Dopo sotto lo stabilisci Quindi il G Contradisce l'F Che è scritto con i piedi Al contrario però Cioè piedi storti Non con i piedi Piedi a papero È scritto Si capisce il cazzo Potevi semplicemente scrivere Il 100% dei guadagni Loro vogliono dire Va in interpretazione Il 100% dei guadagni Prima di 60 giorni Poi dopo Ci facciamo una divisione Sul percentuale Di cui Sulle quali ci mettiamo d'accordo Allora a che serve A che serve appunto il G Che dice che dopo 60 giorni Sarà un corrisposto del 30% Non so chi li segua Non so chi li segua legalmente Ma No poi immagino Tu Germano Che sei più esperto Di e-commerce I primi 60 giorni Quelli in cui tu guadagni Un cazzo Direi 60 giorni Ma cosa Come fai a dire Ma poi con 4.000 euro Cioè ti avessero dato 100.000 euro Ma con 4.000 euro Ma non ci paghi Manco lo sviluppatore E il grafico Se ci devi marginare Un minimo Capito Più che altro Giorgio Tu quanti contratti Da una pagina Hai visto E firmato In vita tua Eh in effetti Bella 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 Una pagina Scusa Una facciata Una pagina Scusa che hai detto Ah Cioè Neanche Neanche gli accordi Che ne so A quelli Sai facciamo una Sitturina privata Così due cazzate In effetti Una pagina Di contratto Non l'ho mai visto Qual è il foro Competente In caso di Secondo me Il reparto penale È questo reparto penale Quello là sarebbe il civile E tornerà il nostro caro amico Gioele Tra l'altro Comunque vabbè Io ho registrato Una decina di minuti Poi ovviamente Schipperò delle parti E metterò Questo anche staccato Dal gate Che state guardando C'è già Qualcuno magari Se ne è anche accorto C'è già Anche qui su Twitch Se andate nella cartella Video esclusivi per abbonati Lo trovate Anche staccato Dalla live Che state vedendo Quindi c'è la testimonianza Integrale Questo ragazzo Che ho chiamato Luca Ma non si chiama Luca Ma appunto ripeto Luca Valori Contattami Se vuoi Conoscere l'identità Del ragazzo Magari Ti avrà contattato anche lui Ha provato a farlo nei mesi Ovviamente Se vuoi Magari Rimborsargli L'ufficio reclami Il tribunale di Twitch Colpisce ancora Greve Avete presente Il ragazzo Luca Che ieri Abbiamo visto Nel gate Aveva diciamo Investito 6.000 euro Nel corso Di Luca Valori Con risultato Il Kef No Quello è Enrico L'altro ragazzo Quello che ho intervistato io Ah Quello Ok Ok Della clip Che aveva investito 6.000 euro Con risultati Pari a 0 euro Oggi È stato Rimborsato È stato Rimborsato Da Luca Valori In persona Poco lui 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 Ma proprio scritto Luca La sua bellissima R Francese Mi ha detto Mi ha detto Sì sì Ho già Ho già provveduto Al rimborso Entro 48 ore Arriverà il rimborso A questo ragazzo E poi altre cose Che sono cazzi nostri Però Ce lo meritiamo Un cazzo di applauso Qui Una bella Ammissione Di I servizi Insomma Perché uno Non è che fa Un refound Così Piccolo recupero Crediti Ma infatti La prossima volta Tu cacchierai Una percentuale Questo che stava Dima Perché non c'era Ma lo sai che me l'ha detto Un millino Ce lo dovrebbe dare Secondo me Lo sai che me l'ha detto Il ragazzo Ha detto Vabbè Però Ho fatto No Guarda Per l'amor di Dio Ci mancherebbe altro Poi se vuoi Uno a due sub Cioè fa piacere Per il supporto Per il lavoro Come fanno tanti ragazzi Insomma Costantemente Però A fare Insomma Percentuale Su recupero crediti Però potrebbe diventare Un business Gli l'hai detto Donare i sub Certo Ovvio Vediamo Aspettiamo Arvarco Se non gli do Tipo due Capito Due sub Però appunto 6.000 sub Però Sono contento A parte scherzi Uno per quello che dice Gianluca Cioè Intanto Significa che un disservizio C'è stato E perlomeno Luca è stato onesto Nel senso Vabbè Ha detto I miei collaboratori Hanno usato un metodo Magari Sbagliato Eccetera Comunque Ci sono gli estremi Per rimborso Faccio il rimborso Anche Germano Aveva ottenuto Un altro rimborso Sempre da Luca Valori Quindi A differenza Di altri personaggi Che abbiamo conosciuto Perlomeno risponde Perlomeno Cerca di mettere Delle pezze Meglio di niente È già un inizio Diciamo Che tra i tanti Se spunta fuori qualcuno Dice ok Esatto Insomma Immagino Che sta sperando Che non si fanno avanti altri Perché Fai un attimo Esatto E poi Questa è una sorta Di carro Del vincitore Diciamo Tra molte Virgolette Quindi magari Pure altri Si faranno avanti Per ricevere un refound Perché è quello che diciamo sempre Alla fine La paura La vergogna Ti tengono Magari fermi Anche se sai Di aver subito Che ne so Non dico per forza Una truffa Ma anche essere stato vittima Di un approccio Magari comunicativo Ingannevole Fuorviante Però Ecco la gula Del possibile rimborso Magari ti porta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti